Ciao, sono Sandro Iovine e da circa 20 anni mi occupo di fotogiornalismo, da una decina lo insegno negli ultimi anni anche nell'università. Di cosa ci occuperemo nel nostro corso? Ci occuperemo di reportage o come io preferisco dire di fotogiornalismo. Questa parola è importante perché sottolinea la componente giornalistica appunto di questo lavoro. Non basta fare delle foto in giro per fare un reportage, bisogna raccogliere le fonti, verificarle, informarsi, creare un rapporto con i nostri soggetti, entrare a far parte della loro vita e solo allora si possono raccontare. Per farlo però è necessario anche possedere una serie di strumenti di tipo più fotografico. Proprio su questi strumenti ci soffermeremo nel corso di primo livello durante il quale faremo una serie di esercitazioni insieme che servono proprio a mettere in condizioni lo studente di potersi esprimere nel modo più ampio possibile per raccontare le proprie storie. Il resto lo scoprirete venendo al corso.